In tribuna d'onore il presidente Balassi e il commissario Pozzo. Romani ha segnato irresistibilmente, ma il Venezia resiste alla guerra dei nervi e dopo sei minuti miete il pareggio con Ottino sul centro di Renostro. Riuscita la ricetta, al quarantesimo minuto la si ripete identica e Ottino fa il bis. Per la prima volta quest'anno il Modena incassa due gol. Griffanti deve prodigarsi nella ripresa. Il Venezia ha messo in cassetta di sicurezza la vittoria. E la salva anche perché Brighenti oggi non è lui e non riesce a sfruttare la palla sfuggita a Griffanti in un ruzzolone accopiato con Tortora nella mischia provocata da Zecca. Peggio, a tu per tu col portiere Facilecca. I neroverdi esultano sotto il sorriso cardinalizio dei due massimi dirigenti.